Il fatto del capo con gli occhi, che sarà aggiunto qua a termine di questo video, diventa impressionante, davvero, perché io degli alieni non c'è avuto mai paura, tant'è vero, io asco di volte, mi fermo, fotografo, filmo, però l'altra notte ho fatto risentire a più persone quei lamenti, quei versi, nessuno ha saputo spiegarmi di che cosa si potesse trattare, gatti, io non ce n'ho, gatti e femmine, meglio o meno. Chi erano quegli esseri che tra l'altro in lontananza si vedevano con due punti luminosi era il capo con gli occhi, sono alieni, sono streghe, che cazzo ne so, cazzo non è una parolaccia a voi, è una parola che è stata penalizzata secondo me per via di errate attribuzioni, perché cazzo matto è una parola italiana, sta a distinguere una persona sciocca, non so, burlone. Il patto del capo con gli occhi sembrava una barzelletta, è un macigno che è sceso sul cantarice e su riedi, quindi non è un fatto che deve mettere paura a me, è un fatto che deve, anche perché ci sono state persone che hanno visto occhi dietro sievi, persone forti, in piena salute, robuste e crollare dal giorno dell'avvistamento, dal giorno dell'avvistamento hanno visto l'inizio del loro declino. di questo vino, non si deve buttagliare pure questo, se no non si riesce a spiegar questi movimenti, questi movimenti dei rigotti, devo buttaggiare questi vini, come questo qua, devo farli tutti caputti, erano dei vini, erano dei vini, erano dei vini, erano dei men, erano dei vini. E stanno brecchi gialli qua alle volte! Mio riposo che ha visto un grosso pappagallo ci ha detto ma vaffanculo, ti è il pappagallo. Dopo tore anni usciamo fuori coi pappagalli… con i galli! dei pappagalli. Adesso è uscito fuori pure il problema del Brasile, col cognome Cantarice. In Brasile ci sono molti cantariciani, no cantariciani, molte persone che portano il cognome di Cantarice. Il Brasile era una colonia portoghese, nemmeno spagnola. Qui è un gualzabuglio che rimette in ballo anche la scoperta della Meri. Bello, la corriera, la corriera, l'autobus. Qua altro che malpensa è, è proprio malpensa qua. Non si sa che cazzo pensè. Stiamo a malpensa, malpensa 2 o malpensa 1. Malragiona, malpensa, boh. Ecco, passa e ripassa. Sto coso alieno. lo faccio. No, non invece... L'autobus. E un'ottobus. E bloca, sono... Il soli è un'ottomano, l'ottomano, la playa è un'ottomano. L'ottomano, sottomano e l'ottomano. Altomano, l'ottomano, l'ottomano, l'ottomano che vittano, è un'ottomano. Possibile che tra là sono le umbi. Possibile che le umbi ci sono le stelle. Può darsi pure che l'8 dicembre alle 11 può stare là. In data 8 dicembre alle 11 ci chiuse potrebbe partire. Sì. 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 Questo è sempre giusto. Sì. 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 Sì.